Un piloto, un mezzo, un totale di 6 pilota, ragazzi ci facciamo un bel applauso, un bel sorriso, un faccio. Siamo quasi, domani a Dario Patero come sei ragazzo, come voi. Dai Ale! Signora bionda! Via! Via! Dai soca! Dai soca! Gran gara! Forza! Forza! Finisci forte! Dai stringi forte! Direzione! Finisci una buona vecchia domenica! Gara! Sfina anche la scena! Sfina anche la scena! Sfina anche la scena! Via! 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 Non sarà l'excelerta! Ti sono una scena! Dai Asia, muovi bene le braccia. Via l'elto è finita, via via l'elto, le braccia. L'elto è finita, via via l'elto. Via l'elto è finita, via via l'elto. Via l'elto è finita, via via l'elto. Via chiara? Via l'elto è finita, via mati. Mati le braccia, vai l'elto è finita. Eccole, stanno arrivando, un bel applauso alla numero 28, Anna, subito, subito seguito da N37, Viola Cipollini, Anna, la nostra vincitrice, subito dietro con il Pettolari e in quarta posizione con il 39, Greta, e taglia anche il pergolo con il numero 30, Rahel, Eccolini, grande Rahel, pochissimi passi dietro di lei con il 35, Giulia, con il 33 a tagliare la linea di arrivo, Viola, Forza Viola, e adesso la finish line con il 36, Chiara, 38, subito dietro, pochissimi passi, Veronica Cari, e pronta a tagliare il traguardo, con il 29, Asia, Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.